Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naice e buon venerdì a tutti soprattutto, bentornati qua nella casa del pane balun Dai ragazzi, dai che è venerdì ragazzi, dai che finisce la settimana Stasera c'è la nazionale, finalmente una partita dove possiamo tifare, essere un po' coinvolti Perciò bene, partita importante soprattutto, e bene, poi soprattutto è passata quasi la prima delle due settimane di sosta per le nazionali che per noi è sempre un po' un periodo un po' pesantuccio da affrontare Perciò la prima delle due settimane è andata, speriamo che passi velocemente anche la prossima e torniamo alla normalità del nostro calcio Bene, bene ragazzi, allora volevo parlare con voi di nazionale, volevo discutere delle probabili formazioni di stasera e poi dire due o tre cosine sui recuperi in casa Milan, sui vari infortunati che si stanno recuperando perciò di questa infermeria che inizia a stringersi Bene, bene ragazzi, lo faremo insieme Fatemi dire una cosa, fatemi ricordare una cosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per essere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti Ragazzi, è importantissimo ragazzi, iscrivetevi, è gratuito poi cerchiamo, facciamo così, cerchiamo di arrivare a 400 manca pochissimo, arriviamo a 400 e io sono la persona più contenta del mondo dai, arriviamo a 400, è semplice vi iscrivete, è gratuito, non costa nulla e a me mi fate felice Detto questo ragazzi, se poi vi va, ma solo se vi va, alla fine di questo video un bel like male non fa E mi raccomando i commenti ragazzi, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate cosa vi piace, cosa no, cosa si può migliorare io accetto qualsiasi tipo di consiglio Detto questo, partiamo Partiamo subito, formazioni nazionali italiane di stasera le probabili formazioni sono 4-3-3 per l'Italia Donna Rumma in porta Di Lorenzo a destra Bonucci a Cerbi in mezzo Emerson Palmieri a sinistra perciò sostanzialmente manca solo Chiellini ecco perché si è infortunato ed è tornato a Torino perciò giocherà a Cerbi a posto suo che devo essere sincero, quando è chiamato in causa fa sempre abbastanza bene a centrocampo Giorginio in mezzo a destra Barella e a sinistra Locatelli non so se Giorginio in mezzo o a sinistra o Locatelli in mezzo sicuramente Barella sarà a centrodestra e Giorginio o Locatelli in mezzo comunque il centrocampo è a tre Barella, Giorginio e Locatelli davanti Chiesa con Insignia a destra, Insignia a sinistra e Belotti in mezzo insomma, diciamo una formazione abbastanza obbligata nel senso che con l'infortunio di Chiellini e l'infortunio di Immobile chi ha a disposizione sono quelli anche se io, devo essere sincero avrei provato a mettere Scamacca avanti avrei provato a mettere Scamacca avanti a parte che a me piace e poi comunque noi abbiamo bisogno lì avanti un bestione Belotti, devo essere sincero negli ultimi anni negli ultimi due o tre anni non è più il Belotti che sembrava dovesse diventare insomma, fa pochi gol e noi abbiamo bisogno di qualcuno che faccia gol ma soprattutto sì, lui ci mette poi alla fine sostanzialmente non si può dire che non mette l'impegno però in questo periodo lo vedo scarico poi comunque rientra da un infortunio è un po' boh, non lo so sinceramente io avrei provato Scamacca anche perché uno può anche dire eh ma una partita così importante stravolgere mettere comunque un giocatore come Scamacca che non è mai stato titolare ha fatto forse una presenza sì, è vero però non è che stravolgi la squadra dai, la squadra sostanzialmente è quella no? vuol dire, l'attaccante è vero che è importante perché deve fare gol però tu non è che metti Scamacca al posto di Vieri o al posto di Gigi Riva nel senso tu lo stai mettendo adesso al posto se ci fosse stato immobile ok anche immobile non fa tanti gol in nazionale però è uno che la mette dentro siccome non c'è immobile adesso tu metti Belotti vuol dire Scamacca al posto di Belotti secondo me ci può stare la squadra c'è lo zoccolo duro della squadra c'è non è che tu stravolgi la formazione mettendo Scamacca io avrei provato perché sai con le palle che ti può mettere chiesa da una parte insegne dall'altra Scamacca la può sfruttare al meglio e poi può proteggere bene un bel bestione insomma c'è fa paura questo qui è alto quasi due metri una bestia spallato è bello imponente Belotti con tutto l'amore però ci mette tanto impegno ma oramai quella cosa che aveva qualche anno fa che comunque metteva dentro la palla da qualsiasi posizione gli è venuto un po' a mancare insomma io proverei Scamacca devo essere sincero il resto della formazione mi sembra abbastanza giusta il centrocampo è quello io adoro tanto Tonali e sono contento della convocazione e sono sicuro che Tonali in questa nazionale avrà il suo spazio però effettivamente a centrocampo è meglio andare con quello che è già affermato ha giocato l'Europa insieme hanno vinto insieme si conoscono e lì sarebbe stato appunto uno stravolgere però anche se Tonali comunque sta facendo bene e in questo centrocampo è un lusso e io devo essere sincero a me piace sia Tonali che Locatelli ma tra i due preferisco comunque Tonali ma è anche giusto che giochi i Locatelli perché è già più nella squadra è più affermato e poi vediamo come andrà la partita magari avrà spazio nel secondo tempo per entrare far rifiatare qualcuno e iniziare ad entrare nelle tornazioni del centrocampo perché questo Tonali in questo centrocampo ci sta e bene e bene in difesa è quella a parte Acerbi a posto di Chiellini ok però comunque Acerbi il suo lo fa sempre devo essere non ha mai fatto grossi errori è sempre ordinato non fa cose spettacolari ma non fa neanche errori clamorosi ci sta bene Acerbi comunque a fianco a Bonucci diciamo la difesa è abbastanza messa bene il portiere abbiamo come tutti dicono il migliore al mondo perciò quello che è stato premiato anche come miglior giocatore dell'europeo spero spero in bene ho sentito da qualche tv cose che forse ci saranno fischi si prevedono fischi per Donnarum spero di no dov'è sicuro oramai basta è finita sta cosa qua quello che doveva ricevere l'ha ricevuto basta io spero di no sostanzialmente poi se dovesse essere così Donnarum che si mettesse dei tappi nell'orecchia e camminare cioè nel senso se è un campione come dicono tutti che è deve anche andare oltre a queste cose qua i fischi vuol dire quando sei forte e rientra nella normalità certo non è normale che magari lo facciano i tuoi tifosi però devi anche accettare un po' di tutto e andare avanti vuol dire quando giochi col Paris Saint Germain e vai da un'altra parte ti fischieranno perciò vai oltre e cerca di di affrontare anche i fischi se dovessero esserci in maniera bella tranquilla e non fare cappellate perché domani stasera non si possono fare cappellate detto questo ragazzi speriamo in bene dai io sono molto fiducioso con questa Svizzera si deve vincere anche anche senza immobile e senza Chiellini anche perché voglio dire è la Svizzera non è il Brasile con tutto rispetto alla Svizzera ma è la Svizzera oltretutto gli mancano anche 5 titolari secondo me bisogna chiudere la primo tempo detto proprio in maniera clamorosa e portarci a casa sta qualificazione così ce la leviamo dalle scatole vedremo vedremo come andrà a finire ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi arriviamo al Milan il Milan recupera Florenzi e Messias che è rientrato anche lui in gruppo e bene bene un'ottima cosa perché ragazzi Florenzi sulla destra e Messias che può fare sia l'esterno destro alto che il trequartista è un ottimo ricambio soprattutto in questo periodo Salemhaker non lo sto vedendo bene perciò abbiamo dovuto adattare Brian Diaz l'altro giorno un po' perché comunque Salemhaker non è in questo periodo informissima perciò recuperare da quel lato lì è ottimo e recuperare anche un vero trequartista perché poi Messias è un trequartista anche lui perciò con alternarlo a Brian Diaz e Krunic eventualmente però Krunic ormai è il nostro jolly può fare il trequartista può fare uno dei tre a centrocampo insomma Krunic devo ricredermi perché sinceramente un paio d'anni fa lo vedevo un po' invece ragazzi oggi non è fantastellare però fa il suo gli chiedi di fare questo te lo fa nel derby ha giocato un gran derby ha annullato praticamente Brozovic che è il fulcro del centrocampo dell'Inter insomma questo Krunic è molto duttile anche se non è bello da vedere però è è molto ha molta sostanza però detto questo bene bene che il Milan inizia a recuperare più pezzi perché adesso a questo punto rimane soltanto il portiere che oramai quello si sa fino a gennaio non lo rivedremo più va bene ragazzi allora io vi auguro una buona giornata vi chiedo un bel like se vi è piaciuto questo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate cosa c'è da migliorare se non vi è piaciuto qualcosa scrivetemi scrivetemi che io vi rispondo sono contento e mi raccomando ragazzi iscrivete scrivetemi nei commenti e iscrivetevi al canale e arriviamo a 400 buona giornata ragazzi ci vediamo stasera per il dopo partita e come dico sempre ciao